Riesce ad andare via nello stretto alto Belli, poi Rasi con un fallo, anzi no, il calcio di punizione è in favore del Roma City per la scorrettezza di Minchillo. Frulla, palla sul destro, può battere questo calcio di punizione lungo dentro, c'è la prolunga dentro, la palla che entra in porta, il vantaggio del Roma City al 41esimo minuto del secondo tempo, la sblocca il Roma City sugli sviluppi del calcio di punizione giocato da Frulla. San Domenico sul pallone, siamo oltre il cinquantesimo del secondo tempo, San Domenico, il cross, Chiere Mateng, palla prolungata, allontana il Roma City, le proteste dell'Avastese, ma c'è il contropiede, arriva però il triplice fischio, la Roma City vince per 1-0 sull'Avastese, la firma di Ferrante conquista la terza vittoria consecutiva.